Ciao a tutti e a tutte, io sono Carmen, io sono Angela e insieme siamo le Martinos! Andorissima! Cerco di non urlare, sennò si distorce il suono, perdonateci, ma eravamo abituate molto differentemente, perché avevamo il microfono più distante e dovevamo utilizzare dei toni di voce più alti del nostro solito, quindi negli ultimi video ho cercato di togliere la distorsione del suono, malamente, quindi adesso cerchiamo, ci bilancieremo anche con i nuovi microfoni, scusateci. Ecco l'introduzione fatta, è arrivato, è il momento, è il momento, rullo di tamburi, se non l'avete capito dalla copertina, ma l'avete capito perché lo scrivo in genere, non fa niente a noi, scriviamo su spance. Esatto, perché? Abbiamo fatto danni! Assolutamente sì, abbiamo fatto danni per il Black Friday. Esatto, e questo è il primo! È la prima parte. Perché gli altri devono ancora arrivare. Esattamente. felici, sì, siamo state brave, ci siamo trattenute per tutti questi mesi, è adesso toccata, adesso è arrivato il momento. È arrivato il momento d'anno e sono già arrivate le prime cose e quindi noi procediamo. Procediamo. Procediamo e ve le facciamo vedere. Esatto. Partiamo. Cioè, ve lo sapete, ma adesso un piccolo retroscena ve lo dobbiamo raccontare. mi ero dimenticato un ordine. Poi, dopodiché, che cavolo è successo? E si è scaricata la batteria. Si è scaricata la batteria. Mi sono dimenticata di mettere in carica l'altra batteria, insomma. Spera ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, perché noi abbiamo fortunatamente più di una batteria riusciamo a generare di fila solo grazie alle più batterie. Comunque, eccoci, partiamo. Vai. Allora, siamo state... non brave. No. Perché siamo state brave a rispettare quello che volevamo. Quindi, a parte qualche cosina, ma proprio sono proprio poche, perché non c'erano degli sconti particolari, particolarmente succulenti su quelle cose. Si. A parte qualcosina che non abbiamo comprato e qualcosina che abbiamo aggiunto, però più o meno abbiamo rispettato quello che desideravamo nel video sui nostri desiderati del plato training. Si, esatto. Le altre cose? Eh, le altre cose ci sono stati attacchi compulsivi a volte. E influenze esterne. Influenze esterne che vi ringraziamo e vi salutiamo. Vi citeremo nel mentre. Vi citeremo. La maggior parte, perché così sapete che è colpa vostra. Esatto, perché dovete saperlo. Esatto. Allora, questi qua dell'erbulario e io ho comprato l'ambra liquida, perché l'ho vista prima da Scarlett, che salutiamo, e anche da la nostra amatissima Amarie. Ami, Ami ha detto, che possiamo dire così. Ami. Ami. Evitiamo di sbagliare. Ami. Del sito. Del canale. Famoso sito. Ubalibre. Che loro la promuovevano, tra virgolette, cioè nel senso a loro piace molto, allora anche a me piaceva tanto, ero indecisa, però noi siamo andati a provare il profumo e su di noi la profumazione non stava bene, però il bagno su cui mamma l'ho so preso uguale. E poi il mio burro preferito, che è quello, cioè il burro labbra, che è quello e quattro burri, che io mi ci trovo benissimo d'inverno. In più la ragazza che ci ha incontrato ci ha dato un sacco di campioncini. Sì. Gli ha dati anche a me che non ho comprato niente. Sì. È stata proprio gentile. Gli ha dati in doppio, cioè questi qua che sono effetto reale. No, a me ne ha dati di diversi. Sì. Le profumazioni che volevo sentire io mi ha dato. Bene. Comunque è stata gentilissima e ci ha veramente omaggiato. Quindi questo è il primo ed è il più piccolo. Ok. Prendiamo la busta. Aspetta, vieni. Ah vabbè. Rimetti a casa loro e loro acquisti. L'ho letto a casa. Poi. Poi vai. Procedi tu. Io sono raffreddata. Con cosa? Questa ce l'ho qua davanti. Sì ce l'ho là davanti. Allora. Vai. Per chi non avesse visto. Ah ho provato anche H2 overdose. Non lo sapevo perché quell'altro ce l'ho anch'io. Per chi non avesse visto nel calendario di Zolando, ve lo lasciamo qua, si trova il Foreo Ufo. Esatto. E su Notino erano in super saldo le maschere. E allora vuoi non approfittare? Con tutte sue. Tutte mie. Avevano un prezzo abbastanza conveniente rispetto al solito. Io ve lo dico dateci un occhio perché su Amazon molto spesso le mettono in sconto. Per chi ha Prime c'è l'acquisto ripetitivo che ha ulteriori sconti. Quindi dateci un occhio perché molto spesso Foreo mette le maschere su Amazon in sconto. Via. Poi. Poi. Beauty Bay. Ah no. C'ho questi io. Guardate. Guardate voi. Da qua sotto vi riuscite a vedere tutto perché giustamente avete una panoramica a 360 gradi. Ma lasciamo perdere. Allora. Che cosa ho preso per me e per lei? Sono uscite su Shein le nuove. La nuova. È uscita su Shein. Riesca a parlare? No. Come sempre. Ma portate pazienza. La nuova collezione con Amazon. La cosa che mi garbavano maggiormente erano le matite. Le ho prese in tutte e tre le colorazioni e un ombrettino liquido che non avevamo già simile a Natasha Denona. Io le ho già provate. Comunque vi faremo una chicca. Vi faremo una chicca così non vi faccio spoiler prima. Bravo. Però sappiate che io le ho rimpacchettate solo per farvi il video. me l'ho già provato tutto. E l'ho presa anche per lei quindi in doppio. Ho approfittato degli sconti single days su... Svelicissima. Su Shein. Svelicissima. Poi poi. Poi andiamo con... Allora io avevo questo che mi hai preso tu. What is... Ah Pink Panda? Pink Panda. Vai con Pink. Allora lei ha fatto un ordine su Pink Panda. Sì. Quindi gli hanno mandato nell'ordine questa che apriremo con voi in una prossima chicca. Quindi occhio perché nelle chicche metteremo sia gli swatches di SheGlam che la busta Black Friday sorpresa di Pink Panda. Esatto. Allora io ho preso questo mango and sugar perché secondo me è buonissimo. Noi già lo conoscevamo. Almeno io sicuro lo conoscevo già. Io no. Eh? Ed ha una profumazione stratosferica ed è buonissimo. Tra l'altro come piace a me perché ha lo zucchero e non ha sale. Mi voglia di mangiarla a vederlo. Ma devi sentire il profumo però. Eh ma non lo voglio. Sembra tipo un sorbetto al mango. Uh. Ah buonissimo. Poi per arrivare a fare il massimo lì ho preso queste make up remove with remover pads. Vabbè servono per togliere il coso. E poi visti perché li ha provati Laura del canale Laura lo può. Ho ceduto a queste qua. Io ho preso la sirenetta perché a me piacevano i colori della sirenetta perché il mio personaggio Disney preferito non hanno fatto quel palette. Che Alice. Che Alice. Banalmente diciamo i nostri personaggi Disney preferiti. Le principesse Disney preferite sono la sua principesse tra virgolette. Alice è la mia. Dovidate? E quindi mi ha preso Mulan. Vediamo se riesco a farvi vedere i colori senza plastichina. Nananan. Guardate che bellimpi. Vabbè poi c'è lei quindi già solo per il package. Ah infatti io l'ho presa per quello poi in realtà. Ora. Poi. Però quelle non erano in sconto. No non erano in sconto. Hai preso a prezzo pieno. Ah. Un po' mi sono sentita mancare però è un prezzo che si può sostenere così. Dai quello sì. Catrice ed Essence si sostengono. Poi. Un coro. Vuoi andare con Beauty Bay? Con Beauty Bay. Vai. Vai. Vai di Beauty Bay. Abbiamo fatto differenti ordini. Però ve li facciamo vedere tutto raggruppati in un'unica roba. Un'unico sciucchio. E portiamo da Da da. Me l'ha regalata lei. Sì. Perché l'abbiamo vista sul video di Carolina e ci ha fatto fare sto danno. Perché lei ne parla bene e noi era già da un po' che volevamo provarla quando ho visto la qui. Che lei tra l'altro ha questa. Se non ricordo male. Se la memoria non mi inganna. E adesso che ci sono stati gli sconti nostra. Assolutamente. I colori ho visto dal second screen dovrebbero essere anche abbastanza fedeli. Perché sto cercando di cambiare tutte le impostazioni di tutto. Poi. Poi. Vai. Tanto questa questa non l'avevamo detta ma Tadam. Ci siamo comprati gli opposti. Esatto. Io avevo questa e lei aveva questa. Le hanno messi sconto. Tra l'altro lo sconto ve l'avevamo pubblicato su Instagram. Sì. Sì. Perché Beauty Bay ha fatto proprio degli ottimissimi sconti. Adesso vi avvicino questa verde e poi avvicino quella blu. Tadam. Bellissime ragazze. Fantastico. E quindi ce le siamo comprate. Ah sì. Io ho la verde che mi mancava e l'era blu che le mancava. Così. Siamo a posto. Poi. Giusto perché non dovevamo aggiungere tante palette alla nostra collezione. Poi. Poi. Vai. Questa io posso dire che mi ha influenzato. è quella che ho detto io. Assolutamente. Questa io poi l'ho vista anche sul canale di Carolina. Anche questa l'ho vista. Anche sul canale di Vanessa. Van Gogh. Sul canale di Van Gogh. Esattamente. Anche Gloria. Anche Gloria. Anche Gloria. L'angolino di Gloria. L'angolino di Gloria. Quindi l'ho vista anche poi in uso alle ragazze. Dopo averla vista da lei. E non potevo non comprarla quando l'hanno messo in sconto. Tan nan nan. Tan nan nan. Allora. Il packaging. D'ora, Gianna Carolina è opulento. Anche per i miei gusti. Cioè io sono un po' più da packaging puliti. Questo è proprio pulento. D'altronde si chiama opulence. Però non vedo l'ora di usarla. Bella. Ho usato la Wilderness. La formula di Beauty Bay mi piace tantissimo. Avevo sentito non da dalle ragazze che l'ho appena citato. Ma dai canali inglesi. Che gli shimmer non duravano. I matti si sfumavano male. Io non ho trovato nessuna di queste problematiche. Anzi, mi è piaciuta molto. E gli shimmer sulla mia palpebra che oleosa a fine giornata con il primer banalissimo di Urban Decay. Quello canonico che uso tutti i giorni. Gli shimmer sono rimasti senza andare nelle pieghette. Quindi per il costo che ha, per me Beauty Bay è super promossa. Io non l'ho ancora provata. Lei non l'ha ancora provata. Molto male. Poi, a mia discolpa, c'è un periodo che non mi sono quasi truccata. Sì, diciamo che anche oggi siamo un po' più truccate degli ultimi video, ma stiamo riprendendo perché siamo state veramente non assenti dal canale, no. Abbiamo cercato di dare costanza, presenza. Ci tenevamo proprio. Però diciamo che abbiamo rangruppato tutti i video. Mi ha avuto momenti difficili. Poi vado io. Ma e tu? Perché dopo è l'ordine che è arrivato oggi. Tadà. 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 La maschera di Stashting. Con che gioia me la dè. Tadà. No, a me piace tanto questa maschera. Anche se mi sono comprata poi 10.000 dalla fuori. Ma fagmi. Ma chissene. E poi c'era quest'altra che è la Stashting Pro alla Hyaluronic Acido All'acido Hyaluronic Erano in super sconto queste. Proprio veramente al 50% direi. Quindi non potevano rimanere lì. E poi io la vedo adesso per la prima volta Anch'io. Perché è arrivato oggi. Io ho soltanto aperto il pacchetto per vedere e non sappiamo neanche se sono integre. E io che la metto a rovescia. Bellissimo il pacchetto. Allora Melt Finalmente proviamo anche noi qualcosa di Melt. Come dicevamo Beauty Bay ha fatto dei grandissimi sconti come avete visto da tutte le palette che abbiamo comprato e non potevamo lasciarci ha fatto sconti del 30% su Melt con in aggiunta l'avevamo postato su Instagram se non erro nelle storie con in aggiunta un ulteriore 10% a carrello quindi scontato del 30% con un ulteriore 10% sul prezzo naturalmente scontato però e quindi mi sono regalata questa e ho regalata a lei questa perché sapevo che era quella che lei preferiva. ma guardate che meraviglia oddio a parte che dalle foto i pan sembrano molto più piccoli invece sono pensavo fossero più sottili dei patacconi giganti ed è meraviglioso puoi avvicinarla perché ho cercato di mettere un'impostazione che ti bilanci magnifica e non spara flash per farle sembrare i colori più veritieri possibili questa era quella la smoke session che bella che è è vero a vedere è proprio bella la blue print cioè il blue ti invoglia proprio che sembra seta cioè seta sì belluto a me è questo io praticamente ho comprato una palette per blue dream che è il verde più chiaro a me piaceva tutto come era fatta proprio questa qua bellissima 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 naturalmente è sempre colpa di questa è colpa di Carolina questa è colpa di Carolina proprio non si discute su questa Carolina sono colpa tua esatto poi a questo punto abbiamo finito con beauty bay beauty bay è finita beauty bay l'abbiamo finita bene a questo punto possiamo intanto tolgo passare a sheffora allora seffora sono pochi danni vi dirò rispetto a a quello che potevamo fare quello che si poteva combinare si è combinato se sentite roba cadere so io che lancio tenendo presente grazie al regalo dei nostri amici noi avevamo un buono di 100 euro esatto quindi in realtà potevamo fare veramente danni io l'ho speso troppo alla fine no io no ancora ce l'ho io l'ho speso tutto perché ho preso delle cose un po' costose però ho approfittato di sconto su sconto nuovamente perché ho approfittato del cyber mondo e a fine giornata avevano messo lo sconto se pagavi con paypal che passava anche se pagavi col buono perché tanto pagavo una minima cifra con paypal e quindi mi passava uguale e vabbè e quindi ho approfittato e ho fatto danno allora una cosa l'abbiamo comprata con single days sì e grazie al fatto che sepporo non ci abbia inviato la gold box perché a proposito esatto per le possessi ricci per chi possiede mettiamola così italiano la carta gold se non vi dovessero inviare la gold box chiamate quelli dei servizi clienti perché in genere la soluzione che vi prospettano è un buono da 10 euro spendibile su tutto su Sephora quindi a noi a lei non era arrivata a me dopo non è arrivato ugualmente quando c'è stata la gold box che la davano in omaggio con i campioncini con i mini size quindi abbiamo chiamato e tutte e due hanno dato un buono da 10 euro senza minimo di spesa senza minimo di spesa spendibile su tutto applicabile con lo sconto perché noi per i single day con lo sconto e per questo dobbiamo ringraziare prima Antonella Antonella Paglino perché lei è quella che ci ha influenzato perché questa era la palette per noi ma invece per lei è una delle sue preferite e poi successivamente Mary che l'ha comprata del canale Mary Beauty Home ci siamo anche sentiti via Instagram Whatsapp eccetera non lo so non mi ricordo più e ci ha detto praticamente di no dovete averla perché fidatevi è bellissima allora come fai? cioè è alla fine per colpa vostra è nostra sì averla tra le mani è vero è un ottimo acquisto è più bella della New Nude ad esempio secondo me di Huda Beauty se vi piace la New Nude questa è più bella e tra l'altro dal vivo è più bella che in video assolutamente sì anche i colori sbocciati ed è veramente la versione sui toni un po' malva della soft della soft glam della glam di Natasha Denona cosa dico è la versione malva della glam di Natasha Denona non è neanche troppo calda c'è proprio bellissima quindi grazie grazie è bellissima è vero poi poi vediamo allora parto dal piccolo io dai poi arrivo alla parte succulenta piccolo ho voluto prendere questo perché io alla Rita stessiamo una cosa solo e in più questo qua è stato un pensiero perché dobbiamo fare dei pensierini di Natale anche alle nostre colleghe allora è un'occasione la Rita è un brand che a me piace tantissimo in queste confezioni natalizie è meravigliosa proprio faccio vedere anche i campioni già che è così arrivo al siucco i campioni siccome gli ordini erano due uno era quello della retro e l'altro e questo mi hanno dato il fondotinta i fondotinta della Fait la Vietbelle di Lancome Alien di Mugler 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 e poi e il Regeni Multilift Ultra Regeni poi ma che bei campioni che ti hanno dato di Lancome si sono carini tra l'altro non si scelgono più quindi a me hanno dato dei campioni più brutti a me hanno dato sempre su due ordini tra l'altro uno bello sostanzioso appunto l'Angel acqua di Giorgio Armani profondo su profumi My Way di Giorgio Armani la Via Belle di Lancome e un campioncino della crema di Drunk Elephant non ho comprato nulla di Drunk Elephant alla fine spoiler peccato non mi sono ascoltato solo su Cult Beauty su cui ne hanno fatto l'ordine perché erano andati sold out le cose di Danessa Myricks che volevo comprare poi questa è la parte più che alla fine non ho resistito questa me l'abbiamo impostata è mia io ho comprato anche il fake cioè nel senso quella più dupe esatto io chiamo fake ma non va bene è un dupe in realtà io e la professionalità dove le vogliamo mettere e quindi adesso era super scontata iper ax era scontata perché c'era lo sconto e si applicava l'altro sconto e secondo me ho dato una botta al microfono scusate non vedranno mai niente che bra la vedete io e la professionalità devo continuare tra l'altro il cofanetto è splendido questa è vista e rivista perché in realtà è quella dell'anno scorso che hanno spacciato per quest'anno dovevano si vede i magazzini gli è arrivato tra l'altro gli è arrivato con un ombrettino che abbiamo un po' pressato se no i resi su Sephora sono infinitamente no e poi io questa veramente ho aspettato una vita intera perché era lì e poi no e poi sì e poi no e poi sì a questo prezzo non potevo che essere sì per me non poteva con mascara eyeliner e primer quindi è veramente un affare ho pagato oddio era 45 direi poi passava un ulteriore sconto del 25 e si pagava alla fine 39 comunque l'avevamo postato su Insta come sempre noi quando troviamo queste chicchine riusciamo a comunicarvele ve le postiamo su Instagram perché così anche voi potete usufruire delle scontistiche far danni come noi allora andiamo avanti vai e io invece approfittando sempre di sconti più sconti più ultrasconti più buono che mi aveva regalato per un totale di 111 euro così sapete tutto ho preso tua e mia la cipria di Charlotte Tiburi di Charlotte la eye brush flawless finish vabbè è la mini size io a lei ho preso medium a me ho preso failure perché comunque siamo due colorazioni ma è vuota no è sotto faccio è vuota vedo che l'avevi aperto ma è vuota delusione poi anche faccio delusa così la proviamo perché dicono tutti essere fenomenale mi hanno tirato il pacco da seffora mi hanno tirato il pacco da seffora esatto quindi lei da provare poi questa qua lo dirò ci sono due cose che ho comprato a causa di Emanuela del canale Snoopina Beauty Lover colpa sua come sempre noi le vediamo sul suo canale poi una di me due le compra una di me due le compra o le compra in singolo o le compra anche per l'altra Glowish di Huda Beauty perché da seffora hanno messo le mini taglie quindi è il la terra in pratica abbronzante di Huda in mini size nella colorazione medium perché mi sembrava abbastanza chiara quindi mi sembrava una cosa ah che carina tra l'altro il pack ma vabbè ma sono un genio del male perché io potevo fare questo e si vedeva ugualmente perché alla fine è estrella poi questa qua vabbè questa la volevo provare in realtà questo è perché lo volevo provare ed è e poi perché ci sarà un altro ordinone in arrivo il blush Divine Rose di Pat McGrath io ho preso la colorazione Desert Orchid che è una colorazione aranciata perché volevo qualcosa un po' differente dai soliti bella e questa mi piaceva molto perché è un bel terracotta molto luminoso bellissimo bellissimo non sento niente perché il naso chiuso ma non profumo provo a sentire questo con la scatola chiusa mi sento sicura io sto io non sono ancora raffreddata però con la scatola chiusa sicuro vai che ce la fai ad aprire cioè ma questa è a prova è a prova per me è a prova no non odora di niente ci hai cucciato il mago ah perché ah ti bevo perché ti vedevo che colore aveva nulla paura eh paura così avete visto anche la parte la parte incubo di me quindi panico pa panico pa panico paura comunque anni anni di questo di nuovamente è sempre colpa di Emanuela eh questo poi lei soprattutto dopo che l'ha vista ha iniziato lo metto non lo metto non lo metto intanto lo mettiamo nella wish poi dopo vediamo cioè sì perché è costosissimo è Dolce Gabbana Blush of Roses è bellissima anche la terra sono bellissimi i packaging di Dolce Gabbana come quelli anche di Gucci prima o poi qualcosa di Gucci lo comprerò però hanno dei prezzi troppo alti contate che questo blush viene 57 euro a prezzo pieno allora anzitutto alta profumeria qua si vede la sacchettina in velluto oh siamo con inciso proprio con tagliato nel vellutino dolce Gabbana quindi c'è questo intarsio e già solo per questo sono partiti 20 euro sì perché c'è il brand poi cioè ma non vi ricordano gli specchietti delle nonne ma è bellissimo cioè io che amo tutti i cardigan da nonna cose da vecchietta molto a me piace molto lo stile classico ammetterò ma quanto ma quanto è è bello ma qui senti tocca tocca wow bello c'è il make up porn c'è il food porn c'è il make up porn c'è il make up porn esiste? sì e questo è il make up porn per me e l'ho preso naturalmente cioè lo danno col pennellino quella è una cosa che a me non è mai piaciuta il pennellino però le classiche con inciso dolce gabbana sopra però questo è proprio l'alta profumeria classica l'ha sempre fatto quindi e l'ho preso nella colorazione pink power che è questo bellissimo rosa power power proprio non si vede bene non lo riesco a far vedere no dai perché riflette tutto insomma è bello acceso è bello acceso però quanto ho visto risulta abbastanza leggero cioè più stratificabile non è pesante sin da subito quindi non è uno è proprio il classico alta profumeria quindi non hanno iperpigmentazioni però vanno a levigare sono fantastiche e quindi dovevo avere il blush di dolce gabbana prima o poi ve l'ho detto faccio la pazienza anche con la terra del dolce gabbana eh sì sì troppo bello wow e stop e no da Sephora io stop dai anch'io e faccio l'ultimo mio lei ha fatto una pazzia questa è stata una follia di un giorno ha fatto la pazzoide da da stavo controllando che non avessi messo la scatola proprio sul microfono da 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 charlotta allora questa qua è pubblicità sì come fanno io purtroppo oltre a chi mi influenza c'è anche le pubblicità e questa cosa non va bene non va bene allora fatto quest'ordine perché praticamente c'erano le box le mystery box al 50% quindi io cosa ho fatto ho comprato la mystery box poi ti accontenti di quella più piccola assolutamente no la più grande costosa esatto che poi apriremo insieme dopo questa è quella dei nuovi prodotti esatto quindi video a parte solo per la box che non so cosa ci sia quindi non vedo l'ora di girarlo io in più lo gireremo dopo allora ecco i campioncini sono questi due uno è il magic serum e l'altro è il charlotte magic cream ma fatta hai visto mi sto esercitando e poi dopo praticamente c'era una super promozione a parte che c'era un sacco di prodotti scontati al 40% su tutto il sito in più c'era la promozione che se arrivava una certa cifra ti regalavano questi tre prodotti full size tra l'altro questo io non glielo ho fatto vedere ma so che colore è eh cattiva sì e praticamente io per arrivare alla cifra oltre quella siccome Antonella che salutiamo Paglino a lei piace tantissimo questo era in promozione due quindi uno adesso andrà a lei uno rimane a me questo che è il fixing spray della di Cialotta vediamo eh sì la chiamo Cialotta noi siamo amiche noi ci chiamiamo quindi ci chiamiamo Cialotta allora il rossetto che si trovava era questo Lott Lips ecco adesso qua arriva lo apro che è il glowing gen come colorazione che si apre a cassettino tutto maculato leopardato cos'è questo wow ma le labbra incise bello wow 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 bellissimo bellissimo sto colore poi adesso prima senza romperlo bellissimo il pack bellissimo tutto curatissimo tutto molto sempre curato nei dettagli questo ce l'ha eh eh beh o d'altronde sono brand di alto costo perché poi spalettanza questa è la walk of no shame oh yes oggi il neurone sta andando eh popum sta andando soprattutto per il popum la mi partono mentre sputacchini il popum ho detto con un'enfasi popum bellissimi questi colori secondo me mentre io muosto ma lei continua a ridere a me viene in mente maccio cabbatonda mi sono a bo 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 vai apri l'unico che non ho è un blush che non mi ha fatto vedere perché mi ha rimproverato check to cheek vedete le ho dato il blush e le ho dato il neurone a lei perché le ho dato il blush a lei no le ho dato il neurone a lei le ho dato un blush in faccia esatto le ho dato un blush in faccia intense la colorazione magnifica bella bellissima colorazione veramente charlotte sito ufficiale di charlotte tilbury tra l'altro neanche così lenti quindi sono anche eccezionali ci ha messo una settimana neanche sì sì perché avevi fatto il danno lunedì sì è vero ed è arrivato oggi il danno quindi bene in coro dai ora noi abbiamo finito abbiamo finito questo primo questo è la prima parte tanta roba sì stiamo aspettando altro sì tanti danni però va bene adesso poi dopo torniamo a farle bravo speriamo come sempre che il video vi sia piaciuto vi ringraziamo sia per essere arrivati fin qui che per supportarci e supportarci ringraziamo i nuovi i vecchi iscritti quelli intermedi perché poverini di loro ci si dimentica sempre quindi vi saluto anche quelli che si sono iscritti nel mezzo vi salutiamo giusto se vi va di iscrivervi al nostro canale noi più che felici come sempre cioè l'utile gioia del cuore come dico sempre attivate la campanella per rimanere aggiornati e sponigiate in su se il video vi è piaciuto e un commentino nella sezione commenti sempre garbatamente noi vi mandiamo un grandissimo bacio e speriamo di rivedervi nel prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.